Quanto è rivoluzionario il cantaballo? Cantaballo è il primo programma di esercizi motori cantati e ballati per bambini che si basa su canzoni che ho scritto e che interpreto. Su ogni canzone si sviluppa un percorso motorio dove i bambini vengono coinvolti in modo ludico, creativo, immaginativo ed espressivo. La particolarità della metodologia del cantaballo è appunto il dialogo motorio che si instaura con i bambini, che l'educatore instaura con i bambini. Questo significa che i bambini non ricevono movimenti preconfezionati da dover imitare alla perfezione ma appunto si provocano risposte motorie. Quindi il bambino cerca risposte motorie agli input che l'educatore fornisce attraverso la canzoncina. Un programma che vuole incentivare il movimento libero e creativo. Come rispondono i bambini? I bambini sono molto entusiasti perché hanno la musica, hanno diverse ritmicità. Il programma cantaballo si sviluppa in tre sezioni. C'è la sigla dove accogliamo i bambini, poi ci sono gli esercizi di riscaldamento, gli esercizi di esplorazione del movimento e infine il rilassamento. Tutto questo viene accompagnato dalla musica con una scelta accurata di suoni e melodie che agevolano l'esecuzione dell'esercizio e della libera espressività.